Grazie Presidente. Cari colleghe, negli ultimi cinque anni ci sono stati due golpe in Sudan. Lo sconto tra le forze armate sudanese e i paramilitari delle forze di supporto rapido è ormai diventato un conflitto sanguinoso che non risparmia la popolazione civile inerme. Lo conferma anche l'ultimo rapporto della missione istituita dal Consiglio di Diritti Umani dell'ONU. Entrambe le parti sono responsabili di crimini di guerra e gravissime violazioni dei diritti umani. Perciò dobbiamo sostenere il lavoro della Corte Penale Internazionale in vista di auspicabili mandati di arresto per i responsabili di questa atrocità. Ho molto apprezzato la recente dichiarazione dell'alto rappresentante che condanna l'escalation al Fashir, la zona del Darfur in teoria sottoposta all'embargo internazionale sugli armamenti ma in pratica inondata di armi che molte organizzazioni riconducono a compagnie registrate in Cina, in Russia, Serbia e Emirati Arabi Uniti. A questi ultimi, in vista dell'imminente summit di cooperazione tra l'Unione e gli stati del Golfo, spero che l'Unione chieda con forza di rispettare l'embargo, pena la sospensione di rapporti commerciali e sanzioni per chi lo viola. Infine, secondo il Programma Alimentare Mondiale, più di 20 milioni di persone stanno soffrendo fame e malnutrizione acuta, in particolar modo i bambini. Credo siano queste le priorità per la comunità internazionale. C'è stato il fuoco e porta aperta all'aiuto umanitario. Grazie.